Dopo le etappe americane, il Festival Nice, arrivato alla trentesima edizione, propone sulla piattaforma più compagnia per il pubblico di casa nostra una selezione del miglior cinema italiano. Come di consueto è stato il pubblico statunitense coinvolto grazie alle collaborazioni del Festival Princeton University, Penn University, Casa Xerilli, Marimò e New York University a votare il film preferito, che riceverà il premio Nice città di Firenze l'11 dicembre in collaborazione con il Comune e Fondazione Sistema Toscana. Ad aggiudicarsi il premio Nice 2020 è stato il film Sole di Carlo Sironi. Nice è una formula strana, una formula bizzarra che va in tutto il mondo e oltretutto è un festival che porta opere prime, opere seconde, ma io lo ritengo uno spazio, una stazione di arrivo del cinema esordiente nel cinema italiano in giro per il mondo. New York, San Francisco, Russia, in questo momento siamo ancora in Russia e questa è la cosa importantissima che per trent'anni Nice ha raggiunto diverse postazioni. Quest'anno per la prima volta il Nice è intitolato a nome di Donatella Carmi Bartolozzi. Donatella Carmi Bartolozzi è una persona umana, una persona che ha lavorato alla Fondazione Cassa di Risparmio come vicepresidente e ha fatto 20 anni con la file che cura l'elenoterapia a tutti i malati che avevano bisogno non avendo finanziamenti. Non solo questo, ma ha lavorato nella cultura, ha lavorato nel cinema, ha aiutato i giovani, in modo particolare ha aiutato i giovani. Era doveroso per Nice che potevamo dargli questo ringraziamento per tutti i malati e per non dimenticarla. Per la prima volta il festival, oltre al vincitore, proporà una rosa di film con una tre giorni di programmazione online dall'11 al 13 dicembre, che valorizza la produzione recente della nuova cinematografia italiana. All'interno della vasta rosa di film che è stata presentata nella nostra edizione degli Stati Uniti di Nice, la trentesima edizione, abbiamo selezionato tre lungometraggi di fiction e tre documentari per essere presentati al pubblico fiorentino e non solo del Premio Città di Firenze, trentesima edizione. I tre documentari sono Il Mondo di Mad, Cinecittà Bernardo Bertolucci di Mario Sesti, Il Mondo di Mad di Anna Di Franzisca, della regista Anna Di Franzisca, e Due scatole dimenticate, Un viaggio in Vietnam di Cecilia Mongini e Paolo Pisanelli. I tre lungometraggi di finzione sono ovviamente il film Sole, di cui ha parlato la direttrice artistica, di Carlo Sironi, Saremo Giovani e Bellissimi di Letizia Lamartire e Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani. Alla cerimonia di premiazione, durante la quale saranno attribuiti anche il premio Angela Caputi, il premio studente, il premio miglior film, le chiavi della città, del comune di Firenze, tutti attribuiti quest'anno per la prima volta allo stesso film Sole, di Carlo Sironi, saranno presenti anche i rappresentanti di Cospe, che da sempre collabora con il festival, che quest'anno presenta il corto Non sono io, di Valerio Cataldi. È un cortometraggio che abbiamo realizzato ad aprile scorso, durante il primo lockdown, insieme all'Associazione Carta di Roma. Non sono io, è nato come un omaggio ai lavoratori, alle lavoratrici di origine straniera, che in quel momento ricoprivano quei ruoli, quei lavori a rischio, come i medici, gli infermieri, ma anche le commesse dei supermercati. Tutti quei lavoratori che in quel periodo venivano definiti eroi, ma che in altro momento invece erano definiti gli invasori. Quindi per rimanere un po' in questo linguaggio bellico che si usa, diciamo, durante la pandemia, e uscirne, noi abbiamo detto né eroi né invasori, ma ricordiamoci che queste persone, appunto persone che vivono in Italia, lavorano in Italia da tantissimo tempo, addirittura ci sono nate ma sono ancora in attesa di cittadinanza, sono parte della nostra comunità. In collaborazione con l'Associazione Cinematografica sarà invece presentato il corto In Her Shoes di Maria Iovine. In Her Shoes è un cortometraggio diretto dalla regista Maria Iovine del 2019, che utilizza materiali di archivio per portare avanti una narrazione che ribalta la storia, come noi l'abbiamo conosciuta, diciamo, il nostro immaginario, mettendo le donne al potere e gli uomini, diciamo, in qualche modo asserviti alla storia che conosciamo. Quindi opera un ribaltamento della storia di genere e ci invita a porci delle domande. che cosa sarebbe successo, appunto, se la narrazione fosse stata ribaltata, cosa sarebbe successo se, appunto, gli uomini si fossero trovati al posto delle donne.